La grazia del Signore nostro, Gesù Cristo, Gesù Cristo, l'Amore di Dio Padre e la Comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. La grazia del Signore nostro, Gesù Cristo, l'Amore di Dio Padre e la Comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Di secoli in eterno. Amen. Grazia. Grazie. 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 Alla vita e alla fede, risorgiamo in Lui. Alleluia, risolto il Signore, e la morte non vincerà più. Alleluia, risolto il Signore, alleluia, alleluia. Alleluia, come contenere la felicità, era morto ed è risolto, ora vive i tuoi. Alleluia, risolto il Signore, e la morte non vincerà più. Alleluia, risolto il Signore, alleluia, alleluia. Siamo testimoni dell'eternità, la promessa che nel figlio è già realtà. Alleluia, risolto il Signore, e la morte non vincerà più. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.